Cosa fai come infermiera, tu? Curi negli ospedali, curi dappertutto, ma quando si tratta di soldi, quante silincher fai, infermiera, tu? Un lungo percorso è per te, infermiera, tu? Un lungo percorso è per te, infermiera, non fare danni, o ti faccio pagare conseguenze. Un lungo percorso è per te, infermiera, tu? 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 Un lungo percorso è per te, infermiera, tu?